Tutto rinviato al prossimo 19 marzo. Si è conclusa così l'udienza di questa mattina per falso improspetto sulle famigerate obbligazioni di Banca Etruria, diventate carta straccia a seguito del decreto salva banche. Sotto accusa sono finiti nuovamente gli ex vertici dell'Istituto di Credito Aretino, l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il funzionario David Canestri. Per l'accusa sostenuta dal pool di magistrati che si occupa del crack di Banca Etruria, i risparmiatori al momento della sottoscrizione dei titoli non sarebbero stati informati correttamente sulla reale situazione dell'Istituto di Credito. Alla base del rinvio di questa mattina l'eccezione sollevata dal legale di Canestri Luca Fanfani sull'incompatibilità del giudice Fabio Lombardo. Il giudice che dovrà occuparsi del rinvio a giudizio aveva infatti le funzioni di GIP nel medesimo procedimento, aveva archiviato per gli stessi fatti, ossia il falso in prospetto, gli amministratori privi di delega e i sindaci revisori. Il giudice, pur non ritenendosi incompatibile, ha comunque accolto la richiesta di astensione sul presupposto della sussistenza di gravi ragioni di opportunità, visto il ruolo avuto nell'archiviazione parziale e la delicatezza del processo. Alla richiesta dell'avvocato Luca Fanfani si sono associati anche tutti gli altri difensori. Adesso la parola passa al presidente del Tribunale, Clelia Galantino, che potrà accogliere l'astensione come rigettarla e disporre che il giudice Lombardo continui a seguire il caso. Il GIP questa mattina avrebbe anche dovuto esprimersi sulla missione delle richieste di parte civile, circa un centinaio quelle presentate, quasi tutti obbligazionisti subordinati, ma anche in questo caso si dovrà attendere almeno sino al prossimo 19 marzo, giorno in cui si conoscerà la decisione del presidente del Tribunale.